Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Massimo e oggi parleremo dei segnali di pericolo. Il primo segnale che andremo a trattare sarà la strada dissestata e viene identificato con questo simbolo qui. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. Il segnale raffigurato si trova in genere a 150 metri prima di un tratto di strada con fondo irregolare, a 150 metri del pericolo. Quindi se incontriamo con il nostro veicolo questo segnale, sappiamo che a 150 metri da questo segnale inizierà il pericolo identificato in questa figura. In questo caso strada dissestata o con fondo irregolare. Il segnale raffigurato pronuncia quindi un tratto di strada deformata con pavimentazione irregolare un tratto di strada in cattivo stato. Quindi il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada dissestata. In presenza del segnale raffigurato è necessario adeguare la velocità in relazione alle particolari condizioni del fondo stradale. Guardate come i nomi vengono variati. Strada dissestata quindi viene definita anche strada deformata o con pavimentazione irregolare o in cattivo stato. Questo segnale qua può essere associato con un segnale di limite massimo di velocità se a fondo giallo è usato in presenza di cantieri stradali. Attenzione! Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lunga a 380 metri. Ricordiamoci quando in questo pannello aggiuntivo abbiamo le due frecce rivolte verso l'alto indica è un pannello di estensione. Quindi quando noi col veicolo incontriamo questo cartello sappiamo che il primo dice che a 150 metri inizierà il pericolo e poi si estenderà a lungo 380 metri. In presenza quindi del segnale raffigurato questo qua ovviamente è necessario moderare la velocità per evitare eccessive sollecitazioni e danni delle sospensioni. In presenza del segnale raffigurato è importante prevedere eventuali sbandamenti dei veicoli che provengono in senso opposto. In presenza del segnale raffigurato è necessario circolare a velocità moderata se si traina un rimorchio ed è necessario tenere saldamente il volante per controllare possibili sbandamenti. Vediamo le false, il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione? State attenti ragazzi bisogna dividere i due tipi di segnali abbiamo i segnali di prescrizione fanno parte i segnali di divieto d'obbligo e di precedenza mentre i segnali di pericolo sono a sé una categoria a sé ricordiamocelo questo quindi ripeto prescrizione, divieto, obbligo e precedenza pericolo sono a sé quindi sono solo di pericolo questo segnale qua raffigurato indica un tratto di strada deformata lunga a 320 metri falso perché quando non ci sono le frecce vi ricordate il segnale precedente significa che è un pannello di distanze significa che a 320 metri inizia la strada deformata quindi va a annullare l'efficacia di questo segnale triangolare a 150 metri ma ti dice guarda a 320 metri inizia il pericolo questo segnale raffigurato indica la discesa pericolosa falsa perché è questo segnale che indica la discesa pericolosa e il segnale raffigurato questo qua preannuncia una forte variazione di dipendenza falso perché indica una strada deformata da non confonderci con questo il segnale raffigurato preannuncia più curve consecutive falso perché questo indica sempre strada deformate il cartello che indica più curve consecutive è questo qua curva pericolosa a sinistra il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva falso perché una doppia curva è questo segnale qua doppia curva la prima a destra il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a visibilità limitata falso perché noi la visibilità limitata l'abbiamo quando ad esempio siamo in una curva che non vediamo in presenza del segnale raffigurato è obbligatorio circolare al centro della carreggiata anche questo è falso in presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare in caso di scarsa visibilità in presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengono veicoli dal senso opposto vedete qua come molti sono abbastanza elementari andiamo per logica quindi queste qua sono tutte false siamo attenti in presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso falso il cartello di vietato il sorpasso è questo qua che è un segnale di prescrizione mentre questo non è un segnale di prescrizione ma è di pericolo in presenza quindi del segnale raffigurato è necessario fare attenzione al restringimento della carreggiata non c'entra nulla perché questo è il segnale del restringimento della carreggiata questo è il segnale di pericolo di strada deformata o dissestata o in cattivo stato mentre questo il segnale è di strettoia di un restringimento della carreggiata da ambo i lati state attenti a non confondere i due segnali il segnale raffigurato preannuncia una serie di dossi falso perché il segnale del dossio è questo qua tratto di strada ascendente e discendente il segnale raffigurato preannuncia una cunetta un dosso falso la cunetta è una parte di strada discendente e poi un tratto di strada ascendente il segnale raffigurato preannuncia un dosso è sempre falso quindi ricordiamoci questa è una strada dissestata deformata o in cattivo stato mentre questo è un dosso e questa è una cunetta grazie a tutti